Oggi iniziamo una serie di video su Git, il sistema di controllo di versione più usato al giorno d'oggi. In questo video andiamo a vedere a cosa serve un sistema di controllo di versione, vediamo poi quali alternative esistono a Git ed infine vedremo cosa è GitHub e perché lo usano praticamente tutti. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Ti sarà capitata sicuramente una situazione come quella illustrata in questa vignetta, dove hai un documento, un disegno, un programma o una qualsiasi altra creazione partorita dalla tua mente, dove pensavi di essere arrivato al completamento, ma poi ti sei reso conto che ci sono delle modifiche da fare. Ma come in ogni modifica potresti poi ritrovarti in una situazione peggiore rispetto a quella precedente le modifiche. Allora cosa fai? Ti crei una copia del file prima delle modifiche di modo da poterti andare indietro in qualsiasi momento. Però, se applichi questa mentalità ad ogni modifica, ecco che ti ritrovi con la direttore di lavoro incasinata con copie e copie dello stesso file. Ci deve essere un modo migliore. E c'è. Ed è proprio quello che i sistemi di controllo di versione come Git risolvono egregiamente. Infatti, uno dei due problemi che risolve un sistema di controllo di versione, abbreviato con la sigla VCS, in inglese Version Control System, è proprio quello di tenere un diario di tutte le modifiche apportate a uno o più file e permetterti di vedere la differenza tra due versioni, oppure tra il file che stai editando attualmente ed una qualsiasi delle versioni precedenti. Oltre che vedere le differenze, ti permette anche di tornare indietro ad una delle versioni precedenti e scartare tutte le modifiche fatte da quella versione in poi. Sebbene un sistema di controllo di versione può essere applicato a qualsiasi tipo di file, considera che i VCS sono pensati ed ottimizzati per i file di testo. Quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono utilizzati per tenere tracce delle modifiche dei file sorgenti quando scrive un software. Il secondo grosso problema che risolve un sistema di controllo di versione è quello che un progetto software, normalmente, viene scritto non da una singola persona, ma da un team, a volte composto da decine o centinaia di persone, tutte che lavorano modificando gli stessi file. Un VCS, quindi, agevola l'unione, in inglese merging, delle modifiche applicate allo stesso file in punti differenti da persone differenti. Tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, esistevano i sistemi di controllo di versione centralizzati, dove c'era un server centrale che teneva le varie versioni dei file, ed ogni computer aveva la coppia locale di una sola delle versioni presenti sul server. I due VCS centralizzati più famosi sono CVS e Subversion. Ma verso la metà degli anni 2000 è emersa una nuova generazione di VCS, cioè i sistemi di controllo di versione distribuiti, dove ogni computer ha all'interno della propria coppia di lavoro l'intero database delle versioni, ed è possibile sincronizzare il database delle versioni di un computer direttamente con un altro computer senza bisogno di un server centrale. A dire il vero, però, la maggior parte dei progetti usano comunque un server centrale per sincronizzare le copie di lavoro di tutti i membri del team. I due VCS distribuiti più famosi sono Mercurial e Git. Tutto molto bello, ma perché dovrei usare proprio Git come sistema di controllo di versione? Ho menzionato poc'anzi CVS, Subversion e Mercurial come alternativa a Git. Abbiamo anche visto che, anche se usi un VCS distribuito, è pratica molto comune utilizzare un server centrale. Quindi, a mio avviso, non regge il discorso che Git è migliore di CVS e Subversion perché è distribuito. In realtà, Git è migliore di CVS e Subversion per il modo in cui tiene traccia delle versioni. Mentre CVS e Subversion hanno il concetto di revisione, cioè che faccia il file system nel momento in cui decidi di fare un commit, Git e anche Mercurial hanno il concetto di change set, cioè quali cambiamenti far fare ai file da una revisione all'altra. Questa differenza si traduce poi all'atto pratico, nel fatto che Git e Mercurial ti permettono di fare dei branch e poi il merge di questi branch in maniera nettamente più indolore che non che un CVS e Subversion. Se non hai capito una parola di quello che ho appena detto, riguardati questo video dopo che avremo parlato di branch. Ok, e perché dovrei scegliere Git invece che Mercurial? Ecco, qui le ragioni non sono più tecniche. Infatti, Git e Mercurial si equivalgono a livello di funzionalità. Non solo, ma personalmente trovo Mercurial più facile da usare rispetto a Git ed in più Mercurial ha anche un tool grafico ufficiale chiamato TortoiseHg di cui sento tanto la mancanza di un equivalente nel mondo Git. L'unica ragione per scegliere Git al posto di Mercurial è che al giorno d'oggi praticamente tutti usano Git, quindi se vuoi collaborare con altri progetti, in un modo o nell'altro avrai a che fare con Git. E una delle principali ragioni del successo di Git è dovuta a GitHub, che è un servizio che ti permette di ospitare dei repository Git, quindi di fatto funge come server centrale per tutti i collaboratori. E inoltre fornisce un'interfaccia web per effettuare numerose operazioni, come vedere lo storico delle versioni, comparare file da una versione all'altra ed anche operazioni non strettamente proprie di Git ma utilissime quando si collaborano ad un progetto. Come per esempio ti permette di segnalare bug in maniera molto semplice e ti permette di fare delle pull request, cioè discutere con gli altri collaboratori riguardo delle modifiche che sono state effettuate prima che queste vengano incluse nel progetto principale. Quasi tutti i progetti open source usano GitHub, proprio grazie alla comodità dell'interfaccia web e delle funzioni sociali. Ma visto che GitHub dipersano in open source ed è di proprietà Microsoft, questo non piaccia a tutti. E quindi alcuni progetti, come per esempio il desktop GNOME, utilizzano GitLab, che ha più o meno le stesse funzionalità di GitHub, ma è open source e lo puoi far girare sui tuoi server volendo. Nel prossimo video entreremo nel vivo e vedremo quali tool consiglio di installare oltre a Git ed inizieremo a paccioccare un po' con un repository locale. Grazie dell'attenzione, ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey, trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima video, ciao!